In più va il pello tutto, non lo so. Penso di preferire la polvere. Più che altro è di là. Sì, è da questo l'altro. Bravissimo, bravissimo. Prova a scuola. Le varie associazioni che erano presenti. Che crede? Il pastore è beccato. Pastore è beccato. La pezza. Sono la zia che le ha più adotto.